Allora, nel comeback, per chi conosce questo speciale televisivo, come accennavo all'inizio della serata, la parte così il rock con tutta l'orchestra, la band e poi la parte gustica, poi c'era anche una parte dello speciale dedicato, insomma quella che era la passione di Elvis, lui proveniva insomma dalla musica sacra, dai gospel, e allora ha voluto fortemente inserire all'interno di questo show televisivo anche questa parte dedicata ai gospel. Allora noi abbiamo fatto chiaramente un taglio di tutto quel gameplay lunghissimo dello speciale televisivo, però di motivi insomma logistici e anche musicali, e abbiamo preso una canzone in particolare perché è un brano che dedico a The Twins, ai ragazzi Elvis Friends e il copertino Massimo e Ale, auguri un buon compagno, per loro. Sì, memoria giusta. 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 Oh yeah, that's what I'm saying, I'm saying I'm the people that I tell you what I need to talk I'm saying, I'm saying Well I can't reach until you don't feel more And I'm still loving me on the creation Oh yeah, I used to lie, I used to cheat I used to lie, 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 cheat Oh yeah, that's what I was saying Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì.